Dopo il caso degli orsi di Fasano visibilmente provati dal caldo, a Luanzo, nei pressi di Buenos Aires, succede ancora di peggio. Gli animali che vedete in queste immagini sono visibilmente drogati e non riescono a reggersi in piedi a causa dei tranquillanti. Il tutto succede per soddisfare la voglia di portare a casa una foto con un leone, una tigre e mentre i visitatori sorridono e si divertono, gli animali vengono maltrattati. Sono tanti le organizzazioni che in Argentina sono conto il giardino zeologico in questione per impedire i selfie con animali selvatici drogati, ma la struttura dal 1994 è privata e non ricevendo sussidi statali segue normative differenti. Dopo l'ennesima denuncia la legge ha sanzionato lo zoo ma semplicemente perché i visitatori si sono avvicinati troppo agli animali. Con un piccolo sovrapprezzo sul costo del biglietto potete scattare una foto con un animale a scelta, una frase che farà brividire e dietro cui si nasconde l'ennesima storia di maltrattamento all'interno di uno zoo.